ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video di persona royale è il 39 c'eravamo lasciati ancora ad aspettare quanto va 3 giorni 4 giorni 5 giorni al risveglio del cuore di caneshiro intanto stanno facendo un po di social link che ragionando ci sono tanti e portarli a 10 sarà difficile e penso che non ci riusciremo a portarli tutti a 10 costaranno importeremo il più possibile così che nella prossima che faremo live avremo gli oggetti che ci daranno per portare su più velocemente quelli che già abbiamo portato a 10 e ci concentreremo su quelli che non abbiamo portati a 10 così da riuscire a portarli tutti a 10 ripetuto 8 mila volte 10 ma vabbè ce l'avevamo lasciati con il firla che voleva vederci probabilmente e portiamo avanti il suo social link che dovrebbe arrivare a 7 pian piano lui ce lo stiamo levando dalle palle confidenti dove dove mishima eccolo qua si lo portiamo a 7 buono gli altri 1 2 4 maruki 3 7 ci abbiamo già il medico 6 abbiamo riuji il nostro grey 4 è già quasi al 5 al prossimo so oggi non mi gira le balle che non dobbiamo proviamo domani a parlare mi sembra che si arrivava a 3 portava 4 deve arrivare una cosa che arriverà se non ricordo male proprio dopo il palazzo di kamishiro detto ciò vediamo cosa vuole il nostro mishima a proposito della mia richiesta ho pensato a molte cose da allora vorrei parlarti di nuovo hai del tempo libero vai che portava 7 go 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 certo grazie scusa se disturbo in un momento del genere ma possiamo viaggiare al palco di inokashira ho sentito un no in lontananza devo aver bruciato male inokashira inokashira che palle non possono mettere un cazzo di accento dove va vorrei parlare in un luogo dove si possa sentire una bellezza notturna la brezza notturna inokashira va beh quindi basta metterlo al contrario di come lo diremmo noi europei shinjuku no shinjuku ma questa cosa è bellissima non mi sembra ci fosse nel persona 5 originale cioè tutto in grigio le uniche le uniche cose colorate era quando capitava raramente che sul treno che stavate prendendo voi ci fosse un altro personaggio principale quindi riugi han eccetera ed era tutto grigio col personaggio colorato mo con colori molto sparati forti live ci è capitato qualche volta di vederlo ma lo sfondo dietro quindi la quindi il finestrino della della del vagone invece comunque non faceva vedere niente qua invece che vede il passaggio colorato col grigio è bellissimo comunque ehi ho riflettuto un pochino su a chi ama con non voglio intervenire ah beh in realtà stavo proprio per dire la stessa cosa insomma dargli la caccia non mi aiuterà a diventare famoso sarebbe il prezzo che inutile basta pensare alla farla cagato al cazzo aspetta come fai a sapere l'hai appena detto ah ho capito un ladro che risveglia i cuori sa di certo scorgere cosa succede nel profondo della mia psiche sai ho creato il fansite per diffondere il vostro messaggio di giustizia nel mondo ma prima che me ne accorgessi ho iniziato ad aiutarvi solo perché così sarebbe potuto diventare famoso anche se forse è sempre stata quella la vera motivazione non so che devo rifarlo in segno di rispetto nei vostri confronti ma in fondo penso che volessi semplicemente mostrare a tutti di valere più di una nullità ma guarda dove mi ha portato sono solo un perdente egoista grappato alla vostra popolarità non mi merito di lavorare al fianco dei valorosi ladri fantasma beh grazie di tutto ciao spari ah no è un pirla non ci ha fatto cavolo ho mangiato la polvere che razza di idiota non so nemmeno scappare lavorando con i ladri con i ladri mi sono convinto di poter cambiare il mondo ma è stata salubra vostra io sono impotente come sempre è la verità mi chiedo se esiste davvero un modo per un tipo patetico come me di darvi una mano ne sono certo voglio un po di fiducia perché sennò si affoga ragazzi aibara grazie non mi resta che capire quale aspetta ci sono il fansite come ho potuto dimenticarmi di una cosa così importante ma non voglio più occuparmi di relazioni pubbliche di pubbliche relazioni però prima di tutto quel sito dovrà essere un oasi per tutte le persone seriamente in difficoltà dopo quello che mi è successo con camo uscita so quanto può essere difficile denunciare le ingiustizie ergo fin tanto che ci saranno voci che chiamano i ladri io vi aiuterò a farsi sentire sì ma mi sembra sempre più motivato aumenta di molti buono 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 ora Mishima è un fanboy in ogni caso dimentichiamoci della caccia da Ikiyama-kun ok sono ancora preoccupato per alcune voci che lo riguardano ma farò altre ricerche non è comunque il cattivo ragazzo il cattivo ragazzo che finge di essere pare sia molto dolce questa ragazza riesce a immaginartelo parlavano di matrimonio già alle scuole medie un po lo invidio a dirla tutta ovunque ci vediamo oi bara quello che ti ho detto su Akiyama-kun era vero non erano sempre voci sul fansite ho trovato un post da parte di una ragazza che penso sia la fidanzata di Akiyama-kun dice di essere preoccupata perché ragazzo frequenta dei tibiloschi e si comporta in modo strano sembra che ci siano abbastanza prove per renderlo un bersaglio ma continuerò a intagare per sicurezza è il tuo momento di gloria si lascia fare a me non possiamo ignorare le richieste d'aiuto sul fansite ah nemmeno mi ricordo di quanto il fansite fosse importante grazie ai bara per avermi aiutato ad arrivare a questo punto ok continuiamo così ciao è il 7 aprile o il 4 non mi ricordo più è il 4 luglio non so non so buongiorno fa un certo caldo oggi il nostro Eren è arrivato a proposito la scadenza di Kaneshiro è questo weekend vero? il suo risveglio del cuore si avvicina i ladifantasma acquisiranno una notorietà ancora maggiore quando tutto questo verrà reso pubblico avremo un gran bel da fare toscano questo è vero il maggior risalto porterà anche maggiori richieste su quel forum penso che dovremmo occuparci di tutti i casi ancora aperti ora che ne abbiamo la possibilità ma non ne ho, ne abbiamo fatti questo vi serve strano questa cosa qua vi avverte che probabilmente delle richieste che vi sono state fatte è finito il risveglio del cuore scadono ma la richiesta ne avevano no abbiamo completato le rute vero? certo eh che cazzo ma a posto alors edificio sportivo andiamo a vedere va questa è l'infermeria dell'orbaglio giusto? non c'era infatti solo quando ci chiama purtroppo allora ho una domanda che riguarda la questione del quartiere lucirose ricordi che ti ho detto che avrei voluto andarci? beh che ne dici di farlo oggi? non conosco la zona perciò speravo che mi potessi fare da guida riesci a liberarti? allora quindi lei passa al 2 decidi dopo mentre il nostro amico riuji dai piani oggi non mi piace se la riuscire al cuore sono ancora ancora i due fammi sapere quel cuore eh anche riuji passerebbe a 7 se non sbaglio vedo l'ora di poter andare a tagliare i capelli ragazzi allora allora riuji passerebbe a 7 che non sarebbe male cosa ci da il 7? niente se non sbaglio però no è il 7 uccisioni istantane mentre la nostra Makoto dove è Makoto? la sua persa eccola qua va al 2 e non ci da un cazzo questo è il brutto di non essere in live che potevo chiedere a voi io lo porterei su Makoto porterei su Makoto quanto sappia già su tutto il suo percorso arrivare al 10 perchè ci abbiamo fatto la romance e la romance ovviamente dovete portarla a 10 ma i riuji non volevo da per buona non andrei con Makoto perchè è bassine perchè ne abbiamo tanti bassi se riusciamo a portarli su adesso gli ultimi sono un pochettino più difficili però li porti 6-5 vini questa è di storia questa è di storia quindi 1 3 però è fermata Tamaki anche dai passa velocemente a 5 è lì pronta Goro dovrebbe essere di storia ma abbiamo visto che lo possiamo invitare lei hanno anche loro delle cose nuove quelle missioni ma abbiamo le loro missioni nella Velvet Room che una volta servivano per portarle a 10 2 è già 7 non ci preoccupo romance nostra quindi la chiameremo il più possibile il sole a 1 e abbiamo tanti altri lei 2 ma deve arrivare a 5 tra l'altro scusate ma nei confidenti non c'è la giornalista era la morte no non era la morte cazzo dobbiamo andare ancora a iniziare quello della giornalista e bel dito al culo andiamo da manco adesso eh eh dovrebbe essere impegnativo siamo a maggio finisce teoricamente a dicembre il gioco ma essendoci la parte nuova che è un trimestre in più dovrebbe arrivare a febbraio aprile quindi potremmo avere più tempo però è una parte nuova non sappiamo se abbiamo tempo comunque che folla deve essere davvero il più grande quartiere a luci rossi di tutta l'Asia pare fosse un covo di criminali clandestini prima che installassero le telecamere di sovranianza che forte lì c'è anche la finanza eccetera di giorno di notte zoccole e pare che ospitasse anche diversi bordelli sì sì ci sono ancora resta medicina oh è davvero così pericoloso ma ho il cuore a mille a ogni modo oggi è un posto molto più sicuro che in passato naturalmente le tre camere di sovranianza hanno giocato un ruolo fondamentale ma essenziale è stata l'opera di epurazione della polizia ciò nonostante si radicando il crimine è del tutto impossibile ho come l'impressione che oggi le attività criminali siano solo meno visibili a ogni modo vedere per credere no? forza andiamo a dare un'occhiata in giro dove? beh, chissà come mai l'abbiamo seminato? il tizio era così insistente doveva essere un reclutatore di intrattenitrici le sue ragazze guadagnavano bene io volevo solo chiedergli se lavorava se lì lavorava qualcuno della Sujin lui mi ha quasi trascinata dentro se non ci fosse stato tu a salvarmi io si, aveva un'altra sospetta è proprio il motivo per cui mi è sembrato la persona giusta a cui rivolgiono si vede che è così che fanno oggi ho imparato una cosa nuova oh, ancora grazie a quanto pare hai un vero talento nel cavarmi l'impiccio un giorno spero di poterti cambiare sento che Makoto è mosso da una calma determinazione dobbiamo cominciare a avviarli per le social link yes dovremmo anche studiare per l'esame che è sto mercoledì? cioè domani perfetto, studiamo per il cazzo studiare anche se questo è un quartiere commerciale non ci sono studenti in giro e certamente non ci sono studenti della Sujin anche se di sicuro non verrebbero con la divisa bene, il tat è buo pure tu è la tua amica ex o comunque quella era... un tempo ero in classe con lei ma perché si trova qui? after school saloon perché si chiama saloon? mmm... non sono sicuro ma mi sembra un logo sospetto le farò qualche domanda riguardo oh, e vorrei che ci fossi anche tu come testimone potresti? fai qua bene, siamo stati un bel pezzo qui possiamo tornare alla stazione grazie per oggi ehi, volevo ringraziarti di nuovo per essere venuto oggi non avevo mai avuto a che fare con un imbonitore non sapevo che potessero essere così insistenti oggi è stato massacrante ma ho imparato molto la pratica di insegnante migliore ok sinceramente ho capito di non poter risolvere da sola questi problemi infatti di oggi mi hanno chiarito le idee voglio anche indagare sulla studentessa della Shujin che abbiamo visto lì sarebbe fantastico ricevere l'aiuto da parte tua per il momento ci vediamo ciao e adesso andiamo minchia abbiamo franca la giornalista sono tre di notte ah, e attacca oggi lo dimmi che passi dai bene, lo portiamo a quattro poi andando si blocca a quattro e lo aiuto se gli altri possono aspettare ok, oggi proveremo a preparare una tazzina di caffè da zero fai molto attenzione questi sono chicchi colombiani postatura media grada medio fine non far bollire troppo l'acqua non preoccuparti ti seguirò passo passo non male anche se in definitiva chiunque è in grado di mettere il caffè sul cuoco preparare una miscela invece è tutta un'altra storia miscelare i chicchi a casa non serve a nulla questo perché l'acidità e il sapore finale dipendono dal rapporto tra i vari tipi di chicchi sorpreso? vorrei sapermi di più oh, ma che entusiasmo se sei davvero così interessato prova pure a sperimentare miscelando i chicchi come vuoi ma giù le mani dai chicchi più costosi intesi? adesso passiamo al curry il suo sapore è speciale sai, tempo fa una mente geniale ha scoperto la perfetta combinazione di spezie da abbinare al mio caffè c'entra la quantificazione del gusto non so come funziona ma il risultato è ottimo a ogni modo quando si tratta del cibo da servire mai accontentarsi i clienti vanno stupiti questa è una piccola attività l'orgoglio per ciò che faccio è la sola cosa che mi fa andare avanti ah, lo stronzo dell'altra volta lei... non le ho già detto che i soldi non ne ho si guarda intorno, vede frotte di clienti? non mi prende in gira Sakura-san chissà quanto ha messo da parte lavorando per il governo e non si sta prendendo cura di quel suo dipendente per puro spirito di carità? vorrei che fosse così gentile anche con me se non intende ordinarle nulla può andarsene cortesemente sto aspettando una telefonata e non ho tempo per chiacchierare può anche rispondere con me presente nel frattempo potrei parlare con il suo giovane amico finchè non tranquilla il telefono possiamo chiacchierare no? o la cosa le crea problemi? beh... oh... allora io caccerei via l'uomo per come sono fatto però chiamassano giro il telefono ah ecco la chiamata dei servizi sociali che stavo aspettando vengono qui piuttosto spesso per accettarsi che il nostro amico stia lontano dai guai e li presento? oh giusto in effetti anche io ho un po' di cose da fare ripasserò un'altra volta ma non ha nulla di meglio da fare forse è meglio se ti spiego di che si tratta potrebbe ripresentarsi in mia assenza quell'uomo è una mia vecchia conoscenza in questo momento è a corto di denaro sembra molto amichevole vero? beh non fate ingannare è tutta una recita la sua ammetto però che sei stato molto in gamba a prendere l'iniziativa mi hai salvato grazie ricordatevi che fino a questo momento qua dopo Kaneshiro se non ricordo male perché mi sembra che si bloccava al quarto o al quarto appunto ma sono sicuro che sia al quarto il social link di soci stavogero si blocca non va più avanti il motivo poi lo capirete presto ecco perché l'ho portato avanti così lentamente puoi preparare il curry delle Blanc puoi preparare il curry nei giorni in cui il frigorifero delle Blanc contiene gli ingredienti per la ricetta non potrai preparare il curry durante il giorno o dopo scuola quando la caffetteria è aperta cucinano di notte quando i fornelli sono liberi solo non capisco perché ti interessi dei problemi altrui è molto più facile ignorarli evidentemente sei così di carattere e già allora lo rinuncerei alla polizia se non fosse per lei eh si è qua che si blocca al quarto allora ehm lasciamo stare a ogni modo la giornata è finita chiudi e vai a studiare o fai quello che fai riesco a scorgere la bontà d'animo di soggiorno nelle sue azioni sento in me una maggiore gentilezza che fascino come si portava sopra capite che non lo ricordo ehi Perry scusa per oggi non volevo coinvolgerti nelle mie questioni forse non dovrei dirlo ma se quel tipo dovesse presentarsi quando non ci sono ignoralo ok lascialo fare e continua a lavorare hai capito? lo butto fuori mi hai ascoltato per bene? sei ancora in libertà vigilata quindi non fare casino non importa quel che dica d'accordo? mi fido di te a dopo bene tutta questa parte qui di gestione è un ballo in persona 5 perché dovete far salire le statistiche seguire i social link shoji? ma è un gioco preistorico quello no è tornato di moda non hai idea di quanti giovani giocatori professionisti ci siano io seguo un piacere i fumi togo qua siccome non siamo ancora andati ci hanno aver giù due volte ci fanno capire vai a parlare con lei è incredibilmente abile per essere solo un adolescente e poi è una bella ragazza ultimamente disputa pochi incontri però pare che si alleni da solo in quella chiesa gioca a shoji in una chiesa? non capisco mi pare strano hai sentito? della ragazza carina? oi... pensi solo a quello? a ogni modo non potrebbe essere la ragazza di cui parlava Yuzuke non sapevo fosse una famosa giocatrice di shoji ehi, buongiorno Ibarra senpai per fortuna oggi è una splendida giornata avevo paura di perdere gli allenamenti mattottini ma se sei qui dovrei ancora farcela stasera andiamo da... dobbiamo farli partire sti cazzo di social link sono Anazaki ah quella di fiori pronto? sono Anazaki scusa il disturbo non potresti venire al lavoro oggi? c'è uno sconto sull'assortimento non so se riesco a gestire perché c'è un piccolo extra fammi sapere se riesco andiamo per l'extra mappa io voglio capire come diventare il fascino però non avevamo richieste il mercoledì è sabato e infatti è mercoledì no? era il 13 quindi siamo ancora salvi dovremmo studiare però cazzo per i kun abbiamo un ordine per un bouquet occupatene per favore il cliente vuole fiori piccoli dai colori pastello trovano i 3 adatti alla richiesta che cazzo è ma un colore pastello perché qua ho bisogno di silvia non c'è mai una richiesta per fiori piccoli dai colori pastello significa bianchi o colori chiari giusto? eh se non lo sai tu io non lo so anche perché il nero è un colore scuro e ci sono i pastelli quindi che cazzo no facciamo fiori piccoli qual è il primo fiore? un grande fiore un fiore normale un fiorellino è un fiore piccolo però puzza questo no un grande fiore un fiore rosso e un fiorellino giallo allora questo arcobaleno via almeno rispettiamo i piccoli poi un fiorellino azzurro azzurro è un fiorellino bianco ma fa culo sei sicuro vado bene? ma si che va bene zampe incrociate dai a morganì hanno pagato il bouquet senza lamentarsi immagino sia una reazione normale ecco la tua vaga per oggi ah non sono stati così contenti poi abbiamo preso più soldi abbiamo fatto i fiorellini quindi abbiamo fatto il fiore piccolo non abbiamo azzercato i colori un buon lavoro per il culto torta pure quando vuoi scimia ottimo lavoro che si è proprio dato da fare oggi vabbè abbiamo aumentato comunque la gentilezza dai troppa roba troppa roba da fare e così poco tempo amene sono stanco di vedere i clienti nella stagione delle piogge ecco chi è? Kawakami sicuro lo sapevo me lo sentivo qui che ho detto devo andare a fare la giocatrice di Soji abbiamo visto la richiesta Kawakami fremo dal desiderio eh si ma dacci qualcos'altro Kawakami oltre a pulire spolvera qualcos'altro che bella sta ragione che bella sta ragione sarà presto da te aspetta canzone giusta per fare l'amore questa quella di prima ovviamente voglio offrirti altri servizi sarebbe fantastico sono un portento con i massaggi ti massaggerò ovunque tu voglia oh oh finalmente beh che te ne pare? come risposta c'è la mi puoi massaggiarla il fatto è che ho parlato con il capo per avere più turni ma ha detto di dover dare la priorità alle donne più giovani che maleducato diamone non c'era bisogno di dirmelo in faccia lui spero l'età non c'entra niente con le polizie si diceva con lui perché io sto supportato e per la mia età sono ancora uno schianto se devo essere sincero poi avrà 30 anni eh le ragazze del mio quartiere dicono sempre che sono carine e la ragazzina della porta accanto mi chiede sempre di legarle i capelli grazie a lei io lo sono bravissima a fare i polini vedi quindi sono perfetta per aspetta non dirmi che sono la sola a pensarla perdone puoi darmi il tuo parere sincero sono una maid niente ma è vero io direi devi volerti bere non merito di essere amata ma hai ragione chiedi sempre di me io non faccio altro che star qui seduta a sfogarmi che diavolo sto facendo? sei un mio studente la doppia vita da insegnante maid è spossante forse ho abbassato la guardia perché conosci entrambi i lati di me stessa poi vengo qui più vengo qui più sento di potermi rilassare la maid dovrei aiutare il mio prodotto a rilassarsi ma in realtà sono io quella che viene aiutata scusa sono una pessima maid non è vero non è vero non è vero ho mentito sul motivo per cui ho bisogno di soldi non ho una sorella malata cominciate a stare attenti alla sua storia anche la storia delle spese degli extra era una bugia lo sapevo se non inventassi quelle storie nessuno mi chiamerebbe vedi ora capisci vero? lasciarci coinvolgere da una persona orribile come me non porta a nulla di buono hai imparato una lezione importante mettiamo fine a tutto questo grazie per aver soffrito dei nostri servizi grazie però tutto con tristezza e non con la voce allegra come altre volte ma noi la stupiremo ricchieremo ognuno è molto più bello se la tua cosa dice lei ha quattro, lei ha due, Kawakami ha quattro e lei ha due, Makoto oggi si festeggia il Tanabata, la festa delle stelle, Tanabata se non sbaglio era la festa bellissima tra l'altro, e si era il 7 luglio che noi andavamo a casa di amici a festeggiarla qua in Italia, con un mio vecchio amico che non vedrà una vita, Gioppo, che è la festa di... oddio non mi viene il nome, sole e luna, sono, vedete Silvia quando serve non c'è mai, non mi vengono i nomi, botana Eva, vabbè, ma non create che appenderò delle decorazioni di gombo, scriverò ai miei disidenzi un pezzo di carta, infatti facevamo anche questo, alla sera, quest'anno non sono dell'umore, oh ma c'è un cibo tradizionale associato al Tanabata, proprio come il cioccolato a San Valentino, bene Takamaki-san, qual è il cibo tradizionale del Tanabata, suggerimento si basa sul mito legato alla festa, sulla punta della lingua, quindi il Tanabata festeggia i ghi dei che attraversano il cielo stellato per riunirsi una volta all'anno, esatto, potrebbe essere legato a milograni, potrebbe essere a milograni, se non lo ricordo male, non mi ricordavo mai, quindi guarda così direi che tra le soluzioni via lattea, ah si dicevano che devono attraversare tutta la via lattea per raggiungersi, tra ciò il cibo tradizionale è qualcosa che si ispira alla via lattea, e questo veramente non me lo ricordo, questo non lo so ragazzi, cipolla non sarà mai, o caramelle ma mi sembra una cazzata, direi Somen, fatti, il cibo tradizionale del Tanabata dovrebbe essere i Noodle Somen, bene, il cibo tradizionale del Tanabata sono i Noodle Somen, in origine in Cina si mangiavano una pietanza, che noi chiamiamo Sukubei per placare i demoni, nel tempo la pronuncia passò da Sukubei a Sukumen, e infine a Somen, un piatto completamente differente, restando in tema di diavoli e satanassi, che a satanassi, il Somen viene anche chiamato Budella di Delone, cercate di ristorarvi con un po' di buon cibo stagionale, preparatevi per gli esami, prego, e in questo caso, non si prendi più! non mi piegiamo, è un po' di buon cibo! anche se non mi piegono un po'... più in gioco! mi parecchia cibo, non mi piegono un po' per se non mi piegono un po' di buon cibo, ci sono iniziasi, riuscita a ottenere permesso per allenarmi nella palestra della scuola stavo pensando che potremmo allenarci lì che te ne pare sento che presto che portiamo a 4 quindi quasi alla fine o a 3 quindi comunque più limitato e aumentiamo i nostri hp se non sbaglio caso mi non rispondo scusa il mio telefono fare bizze si spegne quando gli pare ora sembra ok però ci vediamo vuoi prendere qualcosa in mensa prima allora vado subito a fare dei posti ti aspetto in mensa senpai lei la faremo in live la romance con lei ragazzi scusami se ti ho chiamato qui all'improvviso dopo la nostra clicchierata ho pensato alle altre cose che so fare oltre alla ginnastica e ho capito una cosa è questo preparare il bento feste e culinare culinari feste e culinari beh sembra molto divertente ma stavo parlando di cucina chi pratica la ginnastica deve avere una dietro controllata quindi preparo spesso da mangiare da solo e quindi visto che volevo ringraziare ti ho preparato un bento carina anche se è piccina è la prima volta che preparo qualcosa per qualcuno a parte la mia famiglia ho pensato che così potrei recuperare un po di sicurezza questo l'ho preparato pensando la tua struttura corporea sapendo quanto ti alleno vuoi provare così mi commuovi sì è vero allora sono lieto di verci messo tutto quell'improvviso il pollo e le uova aiutano a gestire la stanchezza ci ho messo anche dei fagioli a riso integrale fantastico io lo mangerei e la ginnastica è importante il controllo del peso ma servono anche energia e resistenza per questo in genere assumo tante proteine e pochi grassi in più il ferro è necessario per la resistenza mentre la vitamina è B per l'energia aspetta mi sto concentrando di nuovo solo sulla ginnastica beh a ogni modo che bento il suo per ogni buon appetito e quello cos'è è il mio pranzo perché quella faccia robiosa Ibarra senpai so che sembra tanta roba ma in realtà è anche meno del solito minchia silvia tranquilla ho calcolato tutte le calorie e bruciano tutto durante gli allenamenti su senpai avrai finito prima di accorgertene faccia tu cazzo questo buono è delizioso è un sapore familiare ma non si sposa bene col cibo provo a mangiare parti diverse hanno lo stesso sapore ricordano un po' è il paraseppai stai bene hai lo sguardo vacuo sa di lo sapevo che avrebbe attirato la tradizione quella è la parte migliore ho pensato che troppo condimento non ti avrebbe fatto bene quindi mi sono limitata con le spezie era troppo leggero mi dispiace si questo era il sapore che volevo ricreare stavo cercando di capire come condirlo poi mi sono detto tutti amano il curry io no poi magari col tempo lo apprezzerò di più però finora non mi è piaciuto giusto? quindi ho deciso di metterci un sacco di curry oh scusa non ami quel tipo di sapore? aspetta forse preferisci quello piccante c'è una terza opzione mi dispiace tanto ho fatto un pasticcio vado a prendere qualcosa per cambiare un po' il sapore sono certa che lo apprezzerei di più dovrei prendere la maionese, salsa di soia, forse del miso pensi che il dottor Maru che abbia del sa? oh hai ragione dovrei comprare qualcosa che puoi mangiarti subito va bene così com'è eh ma... beh grazie meglio iniziare a mangiare wow era delizioso grazie per aver fritto tutta la tua porzione ai maras al pari non è venuto benissimo però volevo preparare un bento ma non sapevo cosa ne ha detto carino a ogni modo mi dispiace davvero sono così imbarazzata pensavo fosse venuto bene quando te l'ho dato e ora... succede veramente buona puoi riprovarci sei davvero gentile Ibarra sempre la prossima volta chiederò cosa ti piace prima di cucinarmi la prossima volta comprerò la salsa me giro sopra la piccante no... vedo che cerchi sempre di fare in modo che rimanga sovradetta via senpai senza di te mi sarei lasciato arrascinare dei fallimenti cadendo in una spirale di pessimismo forse con questa sicurezza riuscirò a capire chi sono davvero giusto... ah... secondo di modo non posso fare altro che continuare ad andare avanti Ibarra senpai spero che potremmo continuare ad aiutarci a vicenda ora che ci siamo rifocitati è ora di passare alla prossima fase non voglio essere troppo severa ma... te l'erenerò ancora più duramente cerca di stare al pass cerco che proprio non voleva essere severa allora per oggi abbiamo finito spero di farlo di nuovo prima un po' non abbiamo una sera libera cazzo una che sia una un po' mi scema arrivo eh... ho un nuovo rapporto per te hai un minuto? andiamo subito grazie scusa se ti disturbo eh... è un po' abbuffata a wall la mi scema poi guarda ti stavo aspettando ho qualcosa a dirti riguardo all'aiuto che ti sto dando che ti sto dando come? eraki yamakun vuole che vada a trovarlo è piuttosto vicino a quanto pare sembra qualcosa di serio non penso che dovremmo ignorarlo verresti con me? ah me lo ricordo questo lo stanno menando e kamakun e shima ah... ecco il nostro uomo ma e kamakun ci ha detto che questo mese non pagherà perchè non lo copri tu? è questo che fanno gli amici no? amici? oh... non siete amici? non prendici per il culo achiyama non è questo perdente l'amico che ti avrebbe dovuto aiutare? se non hai nulla a che fare con questo strozzetto di achiyama ti consiglio di smammare forza toru a quanto pare ci toccherà fare una chiacchierata con la sua fidanzatina no per favore vi subito mi spiace ma hai infranto la promessa ora aspetta a lei di pagarci se capisci cosa intendo e adesso tu gli spari ferrene è questo che succede a chi prova a fotterci sei un diavolo yu yu takun achiyama kun achiyama kun aibara scappa no, non me ne vado devo metterlo nel cestino sei sicuro? non voglio coinvolgerti anche se avrò chi qui è rassicurante credo di avere un'idea rischiosa che non potrebbe funzionare se dovesse capitarmi qualcosa occupa di achiyama kun aibara ehi ragazzi merda mi sono impappinato mh? ancora qui scappa idiota vi consiglio di lasciar stare a achiyama kun ho registrato tutta la conversazione e se farete qualcosa da achiyama kun o la sua ragazza porterò tutta la polizia voi non pensate di rompermi il telefono con carica a carica tutto sul cloud di non comuna ehi che facciamo? andrà tutto bene? la polizia non farà un cazzo per uno stupido video perchè non ve ne tornate a casa dalle vostre bamboline? non abbiamo tempo per dei perdenti come voi ehi vada hai ragione eh? sentite lo so che dovete sempre sembrare dei duri e tutto ma siete sicuri che valga la pena farsi arrestare un'altra volta per una storia simile cioè questo video è più che sufficiente per finire il fresco visto i vostri precedenti penali come fai a saperlo? ora non ha importanza lasciate stare a achiyama kun e saremo a posto se manterrete la parola eliminerò il video e anche la copia le cancellerai adesso nooo aiuta kun ne ho davvero abbastanza ah cavolo credevo che mi sarebbe venuto un infarto tutta la mia recita sarebbe implosa se non se ne fossero andati in quel momento che pippaccia eh? pippaccia dai sei stato un grande tu credi? anche se mi sono pisciato sotto beh la traduzione la verità è che ne ho subite abbastanza per sapere che certi tizi hanno la fiducia di penale sporca nooo che sfiga non hanno controllato o non hanno rispestato i caratteri gli è uscita fuori cazzo oh e grazie per essere rimasta il mio fan perchè non hanno però i caratteri del cognome quando metti il nome e cognome lo sai quanto è il minimo e massimo non potevo ignorare un'ingiustizia simile peccato questa era brutta ormai l'ho capito e questa è la sensazione che mi ha spinto a darvi una mano ecco perchè ho creato il fansite per far si che nessun altro subisse delle ingiustizie simili 8 grandi ma che diamo come stai bene? te le hanno suonate di brutto che scima perchè aiutarmi? eh? non dovevi mischiarti scusa ma sembravi davvero nei guai perciò sono intervenuto e così? comunque riesci a camminare vuoi che chiamiamo un'ambulanza? sto bene andate pure va bene forza Ibarra ci vediamo oi Ibarra scusa sei disponibile a parlare adesso? sto cominciando ad entrare nel panico sto tremando devo parlare con qualcuno pensi che andrà tutto bene? i tizi mi hanno inseguito di nascosto fino a casa? ho una replica dell'arma per la difesa personale un sistema di sicurezza al top sono al sicuro vero? e almeno vai tranquillo da dove arriva tutta quella sicurezza? ah ma mi sento un po' più tranquillo ora che ne ho parlato con te comunque sono così stanco mi piacerebbe andare a dormire ma devo fare un paio di ricerche su questi tizi devo anche moderare il fansite passerò un'altra notte in bianco grazie per avermi dato ascolto fino in fondo ok? ci vediamo ok 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 abbiamo ancora 15 minuti ahi leggiamo qualcos'altro dovremmo riuscire a leggerne due oppure solo uno perché comunque non ne ha due e quindi ce lo bruciamo ora lavorando come ferrara potrai visualizzare le spiegazioni tagliate dei scivoli fortuna siamo quasi alla stazione ma direi che il secondo tempo è molto efficace devo farlo fare solo con un libro se ha due pagine o tre dopo ce le farete è che non lo sapevo dentro prima già l'avevo detto questo è lui ehi come te la passi se non ti dispiace potrei chiederti un po' del tuo tempo non ci vuole molto perciò passa pure quando vuoi andiamo da lui dovremmo andare a 5 con lui 6 mi ricordo ebbene anche oggi si prospetta una giornata campale o forse no perché oggi è il tuo giorno fortunato guarda cosa c'è qui sul tavolo ti ho costretto a sorbirti un sacco di roba cupa su traun lutti e dolori pertanto ho preso questi biscotti al centro commerciale così possiamo fare una pausa è roba buona prima o poi saranno dogati e ci farà male ci troviamo a farti una sorpresa visto che mi hai ci tenevo a farti una sorpresa visto che mi hai assecondato tanto forse mangiali perfetto i soldi è troppo venerdì è fantastico oh giusto parlare di biscotti però mi ha ricordato un vecchio esperimento psicologico i scienziati avevano preparato due contenitori riempiti con lo stesso tipo di biscotti nel primo ne avevano messo una solo mentre nel secondo una decina poi hanno invitato i soggetti ad assaggiare i biscotti da entrambe e a confrontarne il sapore i biscotti di quale contenitori sono stati eletti migliori? qualche idea? quello nel contenitore da solo si prova a pensare quel poco di psicologia che ho fatto all'università da solo ho pensato che avessero mangiato tutti da quello perché erano più buoni inconsciamente il subconscio ti fa pensare quello potevo guardare esatto era facile esiste una legge chiamata principio di scarsità esatto il suo significato si intuisce già dal nome la gente è attratta dalle cose più rare per capire gli effetti di questa legge basta osservare l'entusiasmo di tutti per le edizioni limitate eccomi ehi ha ragione vero? non lo trovo estremamente affascinante prendendo coscienza della scarsità scateniamo i nostri desideri e causiamo un mutamento cognitivo ma non solo l'effetto avviluppa i nostri sensi creando un'evidente variazione nella nostra realtà in sostanza le tue percezioni possono essere viziate dalla tua cognizione o dai tuoi preconcenti avviene tutto a livello inconscio infatti ma è davvero incredibile che è quello che vi ho spiegato proprio qui per inciso ora che hai sentito quella storia che ne pensi riguardo al fatto che i tuoi desideri inconsci possono aver mutato il gusto del biscotto è un tantino inquietante basta che sia buono i sensi mi hanno ingannato i sensi mi hanno ingannato già in molti proverebbero la stessa cosa già in molti proverebbero la stessa cosa del resto il gusto non è cambiato oggettivamente ti sembra esagerato ma trovo che ci sia un chiedimi meraviglioso in tutto questo a volte il cuore umano può vacillare oppure risultare inaffidabile ma una cosa ce la dici questo esperimento basta un preconcetto per portarci più gioia per esempio considera la storia di cui tu ho appena parlato se tu avessi mangiato quel biscotto trovandolo il più buono di sempre senza che io te lo svelassi ah se tu avessi mangiato quel biscotto trovandolo il più buono di sempre senza che io ti svelassi il trucco avresti ritenuto quel biscotto inusualmente giustoso sarebbe stata una verità soggettiva della tua realtà già mi fa piacere sentirtelo dire in pratica ciò che volevo dire è che su questa idea del preconcetto se questa idea del preconcetto potesse essere approfondita applicandola nella sanità credo che potrebbe aiutare un sacco di gente forse anche più di quanto non faccia io con le sedute la tua reazione è eloquente in molti di là ritrarebbero una bugia o un modo per evitare i problemi tuttavia anche se fosse come dici credo che ancora credo ancora che quel metodo potrebbe aiutare molta gente oh caspita ti chiedo scusa alla fine ci siamo infilati in una conversazione accademica devo controllarmi meglio ogni volta che parlo con te finisco per ripensare alle mie ricerche sono davvero grato per tutto ciò che hai fatto e non solo per il tuo prezioso pinuo è più come se stessi chiacchierando con un vecchio amico ah ma forse così si va troppo sul personale del resto lo stiamo facendo per il nostro accordo no? siamo saliti a 5 siamo a metà dai fortuna ora sarà meglio che ti mostri un altro modo per allenarti mentalmente oggi ho intenzione di insegnarti 5 punti SP dai infatti oh ecco qui non si può mai giudinare uno snack vero? perfetto arrivati giusti giusti ragazzi oh sono Maruki scusa per prima doveva essere un'occasione per rilassarci ma è diventata una delle solite discussioni accademiche non si preoccupi mi dispiace ti prego mi dispiace ti prego perdona mi te lo chiedo in ginocchio mi inchia sono sempre stato così mi concentro troppo sulle ricerche e ignoro tutto il resto quando ero ancora nostro dentro me lo dicevano in continuo ecco sto divagando ancora scusami ancora bene ci vediamo presto la scadenza è domani andrà tutto bene? le foto sono sparite non ha più il potere di minacciarci sempre se possiamo fidarci di quello che ha detto Ganeshirpon non dite cose inquietanti non possiamo ancora rilassarci alla fine la polizia potrebbe ancora rilasciarlo sul serio? si a meno che non abbiamo in mano prove schiaccianti come una confessione andrà tutto bene altra volta ci dobbiamo dire in effetti sembra esserci un po' di movimento in effetti mia sorella mi ha scritto dicendo che stasera non sarà a casa è possibile che la polizia abbia trovato qualcosa di importante oh significa che è andata il tempismo è perfetto direi che possiamo solo sperare sarò svegliata la notte a guardare il telegiornale per scoprire domani ci sarà il risveglio del cuore nel prossimo episodio quindi avremo la serata con Kawakami e il risveglio del cuore detto questo ragazzi al solito grazie commentate fatemi sapere la vostra su tutto e come sta andando a voi quindi grazie ancora per aver seguito il video spero vi sia piaciuto e al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.